Ciao, sono Alfio Bardolla, oggi vi racconto un po' di cose sull'immobiliare. Ci avete fatto un sacco di domande e quindi abbiamo creato una serie di pillole per rispondere ai vostri quesiti. La domanda che mi fanno ogni tanto è ma qual è la piazza migliore per fare gli investimenti immobiliari? La piazza migliore di solito è quella lontano, qualche chilometro da dove abiti. Quindi se sei nato come me a Chiavenna in provincia di Sondri un paesino di 7.000 abitanti forse non è la piazza migliore, però nell'arco magari di un raggio di 200.000 abitanti quello potrebbe essere una zona su cui poter fare operazioni immobiliari. Quindi quello che cerco di dare come suggerimento è non andate troppo lontano da casa a meno che non avete dei property manager che gestiscono le proprietà per vostro conto. Però in linea di massima se siete un investitore immobiliare e abitate a Milano, fate Milano. Se abitate a Como, fate Como e 200.000 abitanti intorno a Como. Quindi il posto migliore è il posto che conoscete facile da raggiungere.